Ciao a tutti amore miei, oggi poche parole Fettuccine, funghi e panna Cioè, che vuoi aggiungere? Niente, andiamo a prepararle, facili, facili Padella sul fuoco, olio extravergine di oliva L'olio ci va e non fa male, e lo giuro Peperoncino e aglio Peperoncino privo dei semi Cosicché avrò il piccante al punto giusto Ma il sapore totale del peperoncino Al 100% quello che non fa male, quello che non brucia la lingua I gambi del basilico Ma Simone, come il basilico ci va il prezzemolo? Mettete il prezzemolo, ma il basilico ci va e ci sta benissimo Io utilizzerò questa tipologia di fungo, il fungo ostrica Ok, ma voi potete usare i porcini, galletti, famigliola E gli champignon classici Tutti i tipi di fungo che a più piacciono a voi E dentro, così, saliamo Nei funghi ci metto anche un paio di filetti d'acciuga Questi si vanno a sciogliere e mi danno quel sapore Quella spinta in più un po' di salato Nota bene, i funghi vanno cucinati Devono essere dorati Devono tirar fuori prima la parte acquosa E poi iniziano a cucinare Quindi non crediate, molte volte io nei ristoranti trovo Mi danno, mi servono i funghi che quando li mordo Schizza dentro l'acqua, dentro la bocca E io questa è una cosa che odio Il fungo deve essere prima asciutto di tutta l'acqua all'interno E poi cucinato fino a farli diventare belli dorati Non vi preoccupate se alcuni vi diranno Ma li hai bruciati? No, li ho cucinati Differente Dopo averli ben dorati, uno schizzo di vino Mamma mia E a questo punto sale un profumo E un vapore Incredibile Mamma mia che profumo, sentite qui Che meraviglia Peperoncino, aglio, basilico Uno spettacolo Evaporata la parte alcolica Si va giù di panna La giusta quantità di panna Non ne mettete tanta Mettete la panna liquida Quella che oggi chiamano crema di latte Ma di panna parliamo Però quella liquida Non quella densa panna chef da cucina No, quella no Dovete prendere la panna Per intenderci come quella da montare Ma senza zucchero E quella lì è l'ideale per cucinare Perché? Perché sì Perché mantiene i sapori Nelle giuste dosi Arricchisce il piatto Lo fa più cremoso E vi mangiate veramente una pasta A 5 stelle Con poca fatica La panna ovviamente va salata Assaggiata E cucinata Non si mette dentro Si fanno due bollicine a posto così No Deve essere cucinata Deve prendere quasi il colore dei funghi Adesso la panna è pronta La pasta è pronta Quindi pasta Panna E funghi Eccola qui Passiamo tutto dentro Ci portiamo dietro un goccino di acqua Che ci fa sempre comodo Se la pasta è troppo secca Se vedete che è troppo collosa Mettete Aggiungete un goccino di acqua alla volta Un cucchiaio alla volta Non c'è nessunissimo problema Si danno due salti E si fanno cucinare Per un minuto e mezzo Due insieme alla panna Deve essere tutto Un grande matrimonio Adesso Prima del grande matrimonio Ci andiamo a mettere Il basilico fresco Così Mamma mia Cosa sale su Cosa sale su È un profumo assurdo Ma solo adesso Lo dovete mettere Non prima Una bella spolverata di parmigiano O pecorino Se volete proprio spingere il piatto E si va a far innamorare Tutti gli ingredienti Fino al matrimonio finale Mamma mia Ricordo La panna deve essere cremosa Non acquosa Non collosa Quindi una via di mezzo Che è questa qui Che è spettacolare E si va al piatto Immediatamente Pochi secondi Mamma mia Dunque scendiamo in piatto C'è chi scende in campo Io scendo in piatto È molto È molto È molto più bello Scendere in piatto Che scendere in campo In tutti i campi Quindi Su Mettiamo I funghi Con tutto il finale Della padella Chi viene servito Per ultimo Da sempre È quello che mangia meglio È sempre stato così Spettacolo degli spettacoli Concludiamo Con Un ciuffino di basilico E il piatto È pronto Allora Cuccioli di sboscati Guardate qua che robetta Guardate che robettina Che bella pasta cremosa Saporita Profumata Dovete entrare nel piatto Assaporatelo con gli occhi Perché lui Perché lui vi ripagherà sempre Comunque E poi i funghi Con il basilico Ci stanno Da Dio Mettetevelo in testa Adesso Caro basilico Fammi spazio Perché la mia pancia Vuole essere Riempita Ancora di più Di quello che è Quindi funghi Fettucine Tiriamo su Le facciamo guardare E poi Mamma mia Che piattino Con pochi soldi Poco tempo Poca fatica E poco sudore Il tempo di cottura Della pasta E il tempo di cottura Della salsa Quindi sono 5 minuti Ragazzi Non avete 5 minuti Per mangiare bene Dovete cambiare vita Mamma mia Poi ripeto Ognuno Utilizza i funghi Che vuole A me Questi piacciono Veramente Tanto 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 Così Come I Così denigrati I champignon Sono buonissimi L'importante è Saperli Cucinare Via l'acqua Sì La doratura Quindi acqua no Doratura sì Alla prossima Condividetevi Fate un favore enorme Ciao baby